Quando la serva di Dio, Madre Maria Pia Mastena, fondò la Congregazione del Santo Volto, aveva la chiara coscienza che la miseria, la malattia, la solitudine sono una piaga universale e di ogni epoca. Perciò diede avvio all'Istituto considerandolo come un grano di senape che sarebbe divenuto un albero fecondo nel seno della Chiesa. E la vitalità di questo albero è alimentata dalla vocazione di chi, contemplando il Santo Volto, si sente personalmente interpellato dalla missione di propagare, riparare, ristabilire il volto di Gesù in tutti i fratelli del mondo.